A più di un anno dall'inizio della pandemia di coronavirus, i dati ci mostrano che c'è chi è più vulnerabile alla malattia e chi meno. Se età, stato di salute, malattie pregresse, sono indubbiamente il primo discrimini a determinare l'evolversi della malattia, i ricercatori sembrerebbero aver individuato ulteriori fattori. Una parte della popolazione sembrerebbe essere più resistente all'infezione. Ma questo da che cosa è determinato? Rispondere a questa domanda al momento non è per niente semplice, ma alcuni gruppi di ricerca stanno provando ad indagare. Uno studio condotto dalla Società Americana di Ematologia, pubblicato sul portale BloodAdvance, ha ipotizzato che il gruppo sanguigno di appartenenza possa essere uno di quegli elementi che influisce sulla probabilità di essere contagiati dal virus e sviluppare la malattia. Sono stati esaminati i dati di circa 473.000 persone ed è stato rilevato che gli appartenenti al gruppo sanguigno 0 hanno una probabilità di ammalarsi di circa il 20% inferiore rispetto a quelli appartenenti ai gruppi A, B o A-B. Il meccanismo che determina questa differenza riscontrata nei dati non è ancora chiaro, ma può il gruppo sanguigno renderci immuni a singole malattie? I ricercatori ipotizzano che il gruppo sanguigno abbia un legame diretto con il sistema immunitario e questo potrebbe determinare l'effetto che un virus ha sul nostro organismo. Il gruppo sanguigno, quindi, sembrerebbe avere un ruolo maggiore rispetto a quello che sino ad ora abbiamo ipotizzato. Ma che cosa determina la nostra appartenenza ad un gruppo sanguigno? A inizi Novecento, il biologo austriaco Karl Lennsteiner scopre l'esistenza dei quattro gruppi sanguigni A, B, A-B e 0. Ciò che differenzia i singoli gruppi è la presenza o l'assenza di specifici antigeni. Gli antigeni, in questo caso, sono due, A e B. Quindi chi ne possiede o l'uno o l'altro si ritroverà con il gruppo sanguigno A o B. Chi li possiede entrambi avrà il gruppo sanguigno A-B e, infine, i soggetti che ne sono privi appartengono al gruppo 0. Se questa differenzazione è essenziale nei casi in cui bisogna affrontare una trasfusione di sangue, in quanto pochi millilitri di sangue non compatibile possono scatenare gravi reazioni, oggi si ritiene che il gruppo sanguigno possa determinare anche la predisposizione verso determinate malattie. Uno studio condotto dalla Karolinska Institute in Svezia ha mostrato come l'appartenenza ad uno specifico gruppo sanguigno possa essere un fattore di rischio nello sviluppo di alcune malattie. È stato evidenziato, ad esempio, come gli appartenenti al gruppo sanguigno A hanno una maggiore probabilità di sviluppare un cancro allo stomaco, mentre i gruppi B e AB sembrano più soggetti a sviluppare tumori al pancreas. Il gruppo 0 sembrerebbe meno predisposto allo sviluppo di tumori, ma più predisposto a sviluppare forme gravi di infezioni, come ad esempio il colera. Se questi studi sino ad ora si basano solo su ipotesi ricavate dall'osservazione, una evidenza scientifica nota è che gli appartenenti al gruppo 0, a causa della minore presenza di una proteina da cui dipende la coagulazione del sangue, sono meno soggetti a eventi trombotici, a differenza degli appartenenti al gruppo A, che avendo una concentrazione maggiore della proteina, risultano più predisposti. Questo, spiegano i ricercatori del Policlinico di Milano che si sono occupati della correlazione tra gruppo sanguigno e coronavirus, potrebbe spiegare il perché gli appartenenti al gruppo 0 siano più resistenti all'infezione di coronavirus, in quanto proprio la formazione di trombi rappresenta una delle maggiori complicanze della malattia. Al momento queste sono solo ipotesi che nel corso degli anni verranno approfondite con ulteriori studi. Non c'è nessuna certezza che l'appartenenza ad uno specifico gruppo sanguigno possa renderci più o meno sensibili a determinate malattie, quindi, qualunque sia il nostro gruppo di appartenenza, non possiamo che essere prudenti, sia per noi stessi che per le persone con le quali condividiamo la nostra vita.